Oggi tutto molto facile, possiamo dire così? Dopo i primi 27 minuti la partita si è indirizzata in un certo modo e non poteva essere altrimenti. Ma guarda, io parto dal discorso della squadra perché li ho visti molto molto carichi in settimana. Hanno voluto fare il ritiro tutti insieme sabato sera proprio per preparare al meglio questa partita perché la squadra sentiva molto e voleva molto il risultato oggi. E quindi di conseguenza è successo un po' quello che ho appena detto. Abbiamo fatto una partita con la giusta attenzione tattica, la giusta concentrazione. E' chiaro che poi c'era bisogno di sbloccare la partita e dopo il gol di Amadì insomma è stato tutto più facile. L'appuntamento con la storia adesso è rimandato al 6 gennaio perché il Teramo non è stato mai campione d'inverno in C1, in terza serie nazionale. Anche se questo a fine anno è il miglior risultato di sempre. Ma questa è una grande soddisfazione, spero che il Presidente sia contento, la società sia contenta, i tifosi altrettanto. L'obiettivo nostro è sempre quello di fare le migliori partite e di giocare nel miglior modo possibile. Quindi andremo ad Ascoli sicuramente per fare una grande prestazione e incontreremo una grande squadra. Ma io penso che la nostra è cresciuta come personalità, come a livello tattico, come coraggio, come voglia. E penso che rispecchia un pochettino i tifosi terramani, lo spirito proprio di questa squadra. Sicuramente andremo a dar battaglia anche ad Ascoli. Se non ci fosse stato Ascoli-Terramo sarebbe stato un capodanno e un Natale un po' più tranquilli oppure va bene così? No, noi abbiamo il nostro programma. Adesso facciamo il giusto Natale a casa con la famiglia. Un pochettino i giocatori andranno a casa. Riprenderemo il 27 con sicuramente la massima attenzione alla partita che sarà.